Sì, ho un unicorno nuovo! Oh, Po, non ho più bisogno di te! Via! Ciao, ciao! Oh, oh, Po è triste! Oh, no! Po si sente indesiderato! Ehi, chi sta piangendo? Oh, strano! Oh, poverino, sei tutto solo! Sono stato abbandonato! Vieni con me, corriamo a casa! Guardate chi ho trovato! Oh, no, che tristezza! Potrebbe morire qui fuori! Ora è con noi, è meraviglioso! Ci prenderemo cura di te! Forse dovremmo riportarlo indietro! Oh, povero piccoletto! Qualcuno ha bisogno di un bagno! Hai un odore un po' strano, amico! Dobbiamo ripulirlo! Ho un'idea! La Lily ci servono lo shampoo e una spugna! Trova una penna! Togli la catenella! Taglia l'eccesso! Prendi dei brillantini! Rosa! Voilà! Riempi la boccetta! Per un divertente bagnetto con Po! Wow! Grazie, Lalilu! Presto puliamoci! Chi vuole aiutarmi? Ehm, noi no! No! Scusa, ho fretta! Ti aiuterò io! È ora di farti un bagno! Quale vuoi, al profumo di mela o di fragola? Scrivi nei commenti quale shampoo dovrebbe usare Po! Perfetto! Grazie! Strarofiniamo con la spugna! Vuoi una papperella di gomma? Po adora l'ora del bagnetto! Ottimo lavoro! Adesso è un profumo fantastico! Abbiamo bisogno di un asciugamano! Po è fresco e pulito! Molto meglio! Le ragazze hanno fatto un ottimo lavoro! Dagli una scossa! Perfetto! Prendi le parti! Incollali insieme! Prendi della gomma a piuma! Disegna un cavallo! Voilà! Sistema la sella! Posizionalo su una molla! Disegna le ciglia! Una criniera favolosa! Aggiungi il corno! Prepara le farfalle! Fatto! Po si divertirà tantissimo! È ora di fare una passeggiata! Oh! Un parco divertimenti! Guarda quanto è divertente! Fantastico! Quanti giochi! Vuoi giocare? Yes! Devi lanciare l'anello! Posso andare prima io? Certamente! Sì! Oui! Sta volando alla grande! Ops! Mancato! Oh no! Come è successo? Anche Po vuole provare! È ora di concentrarsi! Trova l'angolo giusto! Lancia! Colpo perfetto! Wow! Ce l'hai fatta! Grazie! Ecco il premio! Oh! Zucchero filato! Posso averne uno anch'io? Sto volando! Ehi! Dove stai andando? Il divertimento non è ancora finito! Facciamo una foto per ricordare questa giornata! Catturiamo il momento! Vediamo! Sono venute benissimo! Che gioco! Che gioco! Tieniti! Qui è fantastico! Più veloce! Oh! Stai attento! Potresti cadere! Lo adoro! Ancora! Wow! Guarda che velocità! Sai come divertirti! Proprio come me! Migliori amici per sempre! Quei due si sono davvero divertiti! Abbiamo bisogno di un seggiolone! Scegli la pittura! Immergi il pennello! Dipingi di arancione! Voilà! Impila le palline! Attacca un sedile! Attacca il dispositivo di fissaggio! Un tavolino! Anzi, devo prendere il tuo fiore! Paul lo adorerà! Perché è così triste? Hai fame? Cosa devo dargli da mangiare? Accomodati piccolo! Lo scoprirò! Cosa mangiano i bambini? Diamo un'occhiata! Ci sono tante informazioni! Anzi, asbrigati! Ancora un po'! Controllerò nei libri! Trovato qualcosa? Paul sta morendo di fame! Pronto! Consegna pizza! Sembra che sia qui! C'è qualcuno in casa? Arrivo, arrivo! Benvenuto! Non c'è nessuno! Dov'è il cliente? Sono qui! Hello! La tua pizza margherita! Grazie! Dove sono le verdure? Farò un'insalata! Che cos'è? Pizza ne vuoi una fetta? Ma è malsana! Prendi un cuscino! Tira fuori l'imbottitura! Fai una palla! Premi con un punteruolo! Apri il baule! Che tenero orsacchiotto! Andiamo a fare shopping! Quali cereali dovremmo scegliere? Che cos'è? Oh, un orsacchiotto! Lo voglio! Prendiamo un po' di frutta! Oh no! Paul se n'è andato! Le ragazze si arrabbieranno con me! Wow! Che giocattolo! Dove potrebbe essere? Paul è lì dentro! Come è arrivato lì? Posso tirarlo fuori? Sbrigati! Guarda quanto è bello! Paul è super popolare! Oh no! Qualcuno lo ha portato via! Commenta qui sotto chi ha preso Paul! Salone di bellezza! Sei giusto in tempo? Accomodati! Che acconciatura vuoi? Quella più stilosa! Ok! Let's go! Ti piace? Paul, cosa ne pensi? Fantastica! Ne voglio una anch'io! Fammi pensare! Ok! Ci siamo! Fatto! Divertente! Paul, dobbiamo andare! Guarda, un negozio! Vuoi entrare? Perché no? Quanti outfit! Cappelli per tutti i gusti! Perché non proviamo qualcosa? Paul, preparati! Ti piace quello rosa? Non va bene! E il cappello di paglia? Molto vecchio stile! Personalizziamolo! Prendi della gomma piuma! Segna con una penna! Ritaglia con attenzione! Raccogli in un cappello! Voilà! Aggiungi una visiera! Trova degli adesivi! Prendi la catena! Metti le decorazioni! Fatto! Per il nuovo look di Paul! Cool ed elegante! Tadà! Wow! Bravo! Vero stile gangster! Adoro fare shopping! Come hai potuto perderlo? È stato un incidente! Perché siete così nervosi? Dove sei stata? Pensavamo che Poo fosse scomparso! Ridammelo! Ragazzi, siete matti? Ci siamo divertiti tanto insieme! Per fortuna, ora sono tutti qui! Taglia la carta! Piega a metà! Voilà! Incolla! Bene! Decora con un po' di gomma piuma! Prendi una perlina! Attacca la corona! Trova alcuni pezzi di tessuto! Cucili con il filo! Riempi con l'imbottitura! Cucil nastro! Wow! Un premio per il vincitore del concorso! I bambini stanno guardando la tv! Cosa c'è? Oh, un talent show! Voglio partecipare! Che bella idea! Vengo con te! Andiamo! La giuria è in sala! Ecco il primo concorrente! Oh, eccovi! Ciao! Il mio nome è Shrek! Chi sa farlo? Non puoi andare oltre! Oh, peccato! Il prossimo è il sub-ginnasta! Oh, strano! Senza talento! Che ne dite di questo? Incredibile equilibrio! Au! Adesso basta! No! Oh, andiamo! Stupisci tutti! La giuria è sull'attenti! Voglio il primo posto! È assolutamente un sì! Incoroniamo il vincitore! È un assegno! È tuo! Oh, grazie! Oh, stai andando alla grande! Che vittoria! Prendi un po' di carta! Lali cadabra! Decora con un pom-pom! Filo di ciniglia! Fatto! Per una festa speciale! Pou è in un accogliente bar! Che coppia carina! E Pou è tutto solo! Nessuno mi ama! Sarà meglio che vada a casa! Non essere triste, tesoro! Sono a casa! Sorpresa! Hai intenzione di metterti il cappellino? Ecco fatto! Congratulazioni! È ora di spegnere le candeline! Esprimi un desiderio! Uh-huh! Pou non si è divertito alla festa! Perché sei triste? Posso aiutarti? Mi sento solo! Tutti hanno un partner e io no! È il momento di scartare i regali! Dov'è il festeggiato? Pou, vieni da noi! Troviamo una soluzione! Crea un piano per trovare una ragazza per Pou! Voilà! Scegli una busta! Prendila! Tira fuori la foto! Attaccala sulla lavagna! Riempi con delle faccine sorridenti! Prendi gli spilli! Fissa delicatamente! Hai ordinato il filo? Oh, grazie! Dammelo! Voilà! Troveremo la fidanzata di Pou! Ecco il piano! È tutto chiaro? Ottimo piano! Easy! Vado a vedere Pou! Oh, è così triste! Eeeh! Stai bene? Oh, il nostro amico è triste! Ma cosa possiamo fare? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa state facendo? Oh, niente! Va tutto bene! Non guardare! Cosa state nascondendo? Wow! Chi è? Che carina! Sono innamorato! Oggi è San Valentino! Inviterò il mio amore a un appuntamento! Dov'è il mio telefono? Ciao! Ci vediamo stasera? Certamente tesori! È ora di prepararsi! Devo farmi una doccia! Prendo la cuffia e la spugna! Sarò fresco e pulito! La 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 la! Ops! Lavoratemi! Nessun problema! L'acqua è perfetta! Oh, sta bene! Qualcosa di elegante! Papillon o cravatta? Quale dovrei scegliere? Ottimo! Mi sta bene! Il mio profumo preferito! Spruzziamone molto! Spero che Fifi lo apprezzi! Devo correre dal mio amore! Prendi dei bigodini! Taglia l'eccesso! Taglia la fine! Trova dei fiori! Disponi il mazzo! Decora con un nastro! Oh, il regalo perfetto per una ragazza! Oh, vuole rendere felice Fifi! Devo comprare dei fiori! Cosa c'è di disponibile? Hai bisogno di aiuto per scegliere? Ecco il bucchè migliore! Vediamo più da vicino! Lo compro! Ottima scelta! Ecco qua! Oh, non bastano! Oh, devi spendere un bel po'! Non vedo l'ora di vedere la reazione di Fifi! La la! Sono innamorato! Il nostro bar preferito! Non è ancora arrivata! Vuoi ordinare qualcosa? Aspetto la mia ragazza! Ma Fifi non arriva! Perché è così in ritardo? Possiamo spostarti a un tavolo per uno? Presto arriverà una coppia! Oh, va bene! Prego, siediti! Ti porto il menù! Fifi! Oh, no! E con un altro! Non siamo più una coppia! È finita! Non si può tornare indietro! Oh, non saltare dal dirupo! Ho deciso! Chi è? Forse è il tuo nuovo amore! Creiamo il look di Paulina! Evidenzia le palpebre superiori! Smalto semipermanente! Copri gli occhi! Prepara l'argilla leggera! Rossa! Modella le labbra! Decora con un fiocco! Paulina gialla e bella! Oh, no! Pollice in su per evitare che Paul cada dal dirupo! Ti ho preso! Mi hai salvato! Grazie! Vuoi fare uno spuntino? Andiamo, presto! Siamo arrivati? Perché è questo? Il mio ragazzo non ti è presentato! Forse è meglio così! Serviti! Ti sei sporcato! Ti pulisco! Paul! Puoi rotolarti sull'erba? Sì! Ok! È così divertente! Che bella coppia! Prendi del cartone! Ritaglia una forma! Leviga la superficie! Applica lo smalto gel! Decora il bordo! Aggiungi le pinne! La tavola da surf è pronta! Ci siamo quasi! Tiriamo fuori il tappetino! Così! Vuoi un po' di crema solare? Proteggerò la tua pelle dalle scottature! Ops! Chi è quello? Sono il re delle onde! Voglio provarci anch'io! Andiamo a fare surf! Assolutamente no! Va bene! Torno subito! Puoi insegnarmi a fare surf? Cosa devo fare? Prendi l'onda! Penso di potercela fare! Prendi del polistirolo! Sciogli! Dipingi di rosso! Metti un anello! Per una proposta di matrimonio! Sto andando dal mio amore! Tesoro, sto arrivando! Ebbene, ti aspetto! Presto! Oh no, un cane! La mia testa! Pronto, abbiamo bisogno di un'ambulanza! Corriamo in ospedale! L'appuntamento è annullato! Il mio amore è in ritardo! Forse gli è successo qualcosa! Poe non è venuto! Oh, il mio telefono! Capito, sto arrivando! Sto arrivando, Poe! È privo di sensi! È colpa mia! Non piangere! Asciugati le lacrime! Faresti meglio ricomporti ed andare a trovarlo! Amore mio! Sei sveglio! Sono così felice! Stai bene? Sei ferito? Ho una sorpresa! Mi vuoi sposare? Oh my gosh! È così bello! Anche io ho un anello per te! Siamo fidanzati! Ti amo! È ora di prepararsi per il matrimonio! Iniziamo! Prendi del tulle! Cuci un nastro! Raccogli il tessuto! Prova il vestito! Metti il velo! Paulina si sposa! Che sposa affascinante! È ora di prepararsi! Siediti comoda! Un po' di mascara! Labbra più luminose! Cambiamo il fiocco con un velo! Sei stupenda! Sono così emozionata! Vediamo! Bellissimo! Bellissimo! Grazie! È stato un piacere! Sono tutti qui! Amore mio! Vi dichiaro marito e moglie! Puoi baciare la sposa! Evviva! Siamo una famiglia adesso! Ragazze, pronte? Prendete il bouquet! L'ho preso! Che bella giornata! Ti amo! Alla fragola! Mi fa male la pancia! Oh! Cosa fare? Un dottore! Aiuto! Fermi! Possiamo prendere in prestito il vostro motorino! E lo rideremo più tardi! Presto all'ospedale! I need help! Seguimi! Vediamo! Strano! Oh! Ho paura! Non preoccuparti! Vediamo! Stanno per nascere! Non c'è tempo da perdere! Chiudi la tenda! Modella i corpi! Fai una palla! Attacca le iridi! Appiattisci l'impasto! Decora la testa! Prendi il pennello! Fai asciugare sotto la lampada! Prepara i fratelli e le sorelle! Che bambini carini! Ecco il primo bambino! I parametri vitali sono buoni! È sano! Vieni con me! Sdraiati piccolo! Ed ecco gli altri! Conta quanti bambini hanno avuto Po e Polina! Uno, due, tre, quattro, cinque! Perché ci vuole così tanto? Ecco i tuoi bambini! Congratulazioni! Hai avuto cinque piccoli! Figlie, figlie! Come sai? Amore mio, sono così felice! Grazie, andiamo a casa! Bye bye! A presto! Taglia un bicchiere! Dipingi color cremisi! Avvolgi il cestino! Copri con la pelliccia! Prendi della gomma a piuma! Attacca un tettuccio! Assembla le parti! Aggiungi un manico! Perfetto! Indispensabile per le passeggiate! È ora di provarlo! Perché piangete? Non è facile calmare i bambini! Forse hanno fame! Ha un'idea! Ecco qua! Adesso dormono! Sei così bella, amore mio! Genitori, restate concentrati! Tornano il passeggino! Dove sono gli altri? Cerchiamoli! Chi vuole venire da papà? Che piccole pesti! Uno, due, tre, quattro, cinque! Ci sono tutti! Cucu! Cucu! Sono troppo carini! Si stanno addormentando! È ora di fare uno spuntino! E vai, un parco divertimenti! Voglio andare! Scusa, fretta! Incontro del club degli amanti di Po! Ti prendo! No, non lo farei! Oh, sono adorabili! Cosa c'è che non va? Voglio anch'io un Po! L'ora apri veloce! Cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Vediamo! Combiniamo Po e invidia! Oh, che carina! Trasforma in argilla leggera! Modella il corpo! Aggiungi gli occhi! Brillanti! Copri con lo smalto! Acconcia i capelli! Guance rosa! Nascondi in una scatola! Sì, il mio piccolo tesoro! Ciao! Mamma, papà, grazie! Ragazze, mi unisco a voi! Wow, abbiamo un nuovo membro! Ogni amica è un Po! Mitch, dove stai andando? Oh, oh, ecco che arriva l'inseguimento! La piccola ansia si nasconde! Cos'è successo? Dov'è? Non preoccuparti! La troveremo! Dove sei nascosta? Commenta qui sotto! Forse dietro la palla? No, qui? Oh, solo un gattino! Eccola! Vieni qui, piccola! Grazie per l'aiuto! Ho un nuovo amico! Oh, sei salva! Vuoi giocare con la palla? Posso farlo io? Voglio giocare anch'io! Vuoi un giocattolo? Ecco qua! Che sorpresa! Sembra che Poe abbia fame! Dobbiamo dare da mangiare alle piccole! Eccoci qui! Buongiorno, ecco il nostro menù! Scegliete quello che preferite! Oh, mangiamo! E se scegliessi la cosa sbagliata? Prendiamo salatini e broccoli! Scegliessi! Prepariamoli! Inizia con l'argilla polimerica! Impasta con le dita! Questa è la radice! Aggiungi la parte superiore! In forno! Buon appetito! Servirò all'ordine! Ecco il vostro cibo! Riusciremo a mangiare tutto questo! Yummy! È scomparso tutto molto rapidamente! Cos'è? Pensavo che sarebbe stato più grande! Cameriera? Sì? Possiamo avere una porzione extra large, per favore? Un momento! Guarda che dimensioni! Guarda cos'ho! Oh no! Penso che Poe abbia mangiato troppo! Sembra che abbia bisogno di un pannolino! No, scusate, dobbiamo andare a casa! Di cos'ha bisogno Poe? Di una lampada? Di giochi? Di una vasca? Una vasca da bagno e giocattolo! Pulisci accuratamente! Taglia le gambe! Installane di nuove! Elsa, prestaci le tue cuffie! Sostituisci il cavo! Un comodo supporto! Aggiungi le maniglie! Poe è pronta per il bagno! È ora di lavarsi! Che odore! Siediti nel lavandino! A Poe non piace! Mamma! Tesoro, cosa c'è che non va? Poe non vuole fare il bagno! Che ne dici di una paperella di gomma? Molto meglio! Dai, ti piacerà! Apriamo il rubinetto! E tante bollicine! Insaponiamoci! Sfreghiamo con la spugna e risciacchiamo! Ora dobbiamo asciugarci! Poe è brillante e pulita! Come nuova! Bella pulita! È ora di andare a letto! Dormirà con Poe! Svegliati! Gioia? Cosa sta succedendo? Andiamo al parco! Ci sono le farfalle! Wow, andiamo! È la stagione degli insetti! Wow, quante farfalle! Guarda, Poe! Riposate per un po' sulla panchina! Vieni qui! Ops, è volata via! L'avevo quasi presa! Mancata! Non ce la faccio! Lali Lu mi serve un rettino! Facciamone uno! Rimuovi il coperchio! Uno strumento di modellazione! Taglia l'eccesso! Attaccalo a un anello! Prendi una rete! Fissala! Perline colorate! Questa! Decora la rete! Ecco qua, invidia! Grazie! Pronta a riprovare? Andiamo! È più divertente con i rettini! Presa! Ehi, quella è la mia testa! Gioia, guarda! La tua Pau è sull'albero! Oh no! Com'è arrivata lassù! Calmati, ti aiuterò! Metti un pollice in su se vuoi che rabbia salvi Poe dall'albero! Oh, non aver paura! Ecco la tua piccola! Oh, sei così coraggioso! Ah, vuoi del gelato? Yummy! Perché non ci siamo incontrati prima? Aspettavamo il momento perfetto! Anch'io voglio un fidanzato! Oh! Attenzione! Chi è caduto dalla bicicletta? Stai bene? Lascia che ti aiuti! Sì! Oh, sei così premurosa! Oh, sembra che sia amore! Per te invidia! Non guardarmi, sono timido! Lali Lu mi sento a disagio nel chiedertelo! Posso avere anch'io un Poe? Certo! Quale colore usare? Rosa! Modella il corpo! Aggiungi un naso! Una piccola bocca! Scegli gli occhi! Attacca il corpo! Proprio come il suo proprietario! Grazie! Spero che non ci sia nessuno qui! Ehi, ciao! Ciao! Ci conosciamo? Come ti chiami? Guarda, un nuovo amico! Aspetta, dove vai? Aspettami! È timido! Sei così carino! Facciamo una foto? No! Cheese! No, 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 no! Non preoccuparti, io... Ops! Poe è caduto nella fontana! Sono qui! Ti salverò! Ecco delle spugne! Assorbiranno l'acqua! Non preoccuparti, piccolino, ancora un po'! Sì, ha funzionato! Vieni qui! Adesso ti asciughiamo! Fatto! Ecco qua! Va tutto bene! Stai bene? Grazie, lo hai salvato! Imbarazzo si è innamorato! Sembra che sia reciproco! Andiamo insieme al ballo della scuola! Davvero? Vuoi andarci con me? Certamente! Chi riceverà le corone? Straccia i disegni con una penna 3D! Riscalda con un asciugacapelli! Piega in un anello! Scegli dei brillantini! Whee! Glitter! Decora con gli strass! È ora della cerimonia di premiazione! Gara di ballo! Vogliamo provarci! Anche noi! Oh, solo per te! E se non vincessimo? Wow, le corone! Devono essere nostre! Prima coppia, iniziate a ballare! Oh, sono a tempo! Mi sento così a disagio! Scappiamo! Imbarazzo, aspetta! Concorrenti numero 2! Seguite le nostre mosse! Stai andando alla grande! Abbiamo i nostri vincitori! Chad e Invidia! Il re e la reginetta del ballo! Spero che non mi notino! Imbarazzo, tesoro, dove sei? Mi sposerai? Oh, i nostri Po si sposano! Prepariamoci per la celebrazione! Prendi un coperchio! Decora! Bellissima parete di fondo! Rose bianche! Fai un fiacco! Cuore al centro! Molti fiori! Una mini location per matrimoni! Gli ospiti sono arrivati! È così toccante! Ti amo! E io amo te! La cerimonia ha inizio! Adesso i Po staranno insieme per sempre! Gratulazioni! Spero che nulla vada storto! Andrà tutto bene! Oh, le coppie mi rendono timido! E adesso i regali! Un mucchio enorme! I nostri Po stanno insieme adesso! Proprio come noi! È finita? Possiamo andare a casa? C'è ancora la torta! Ecco perché sono venuto! Attento! Attento! Spero di non... Ops! Oh no! Dritto sul bersaglio! Eh, hai assaggiato la torta! Sono stupo! Che succede? I nostri Po sono genitori adesso! Commenta qui sotto quanti bambini ci sono! Ci serve un passeggino! La Lilu puoi aiutarmi! Va bene! Questo è troppo piccolo! Usa le pinze! Vaschetta di plastica! Rimuovi le gambe! Fissa la base! Aggiungi la cappottina! Manico fatto di cannucce! Decora! Un materasso morbido! Trendy e comodo! I bambini possono stare qui! Oh no! I piccoli sono scappati! Dove sono? Forse in piscina? Quindi? Niente! Qui! I bambini sono corsi nella casetta! Ehi! Dove siete? La mamma è preoccupata! Se ne sono andate! Venite! Presto! Avete la patente? Oh oh! Uno schianto! Così non va! Non abbiate paura! Vi mostreremo tante cose interessanti! Zucchero filato e giostre! Chi vuole una foto con la piramide? Possiamo farne una con il faraone? Andiamocene prima che qualcuno ci veda! Siamo tornati! Un cespuglio di spine! I bambini sono tutti graffiati! Pronto ambulanza? La famiglia va in ospedale! Abbiamo bisogno di qualche medicina! Ciao Pou! Vai al menù! Negozio di pozioni! Per il ringiovanimento! Ecco un po' di melma! Si allunga perfettamente! Stelle scintillanti! Un po' di glitter blu! Mescola con un bastoncino! Riempi la boccetta! Inserisci il tappo! Disegna un'etichetta! Posizionala sullo scaffale! Aiuto! Abbiamo bisogno di un dottore! Oh no! Poveri bambini! Siamo caduti! Non c'è spuglio! Dov'è il mio strumento? Ho trovato! Cominciamo! Niente più spine! Sì, grazie dottoressa! Non abbiamo ancora finito! I bambini hanno bisogno di un'iniezione! Sono scappati di nuovo! Vorrei avere la loro velocità! I piccoli sono in alto! Eccoli! Non riesco a raggiungerli! L'invidia si è rovesciata addosso la pozione! Si è trasformata di nuovo in una bambina! Mamma, papà, dove siete? Tristezza e gioia si sposano! Che torta! Wow, quanti regali! Voglio sposarmi anch'io! Tesoro, sono così felice! Anch'io, tesoro! Sei stupenda! Davvero? Devo trovare subito uno sposo! Ci sono un paio di candidati! Chi scelgo? Scelgo te! Cosa sta succedendo? Ecco! Fammi la proposta! La proposta! Ok! Sì, lo voglio! Mi sposo anch'io! Cosa? Guardate il mio anello! Sta rubando di nuovo i riflettori! Questo è il nostro matrimonio! Ha rovinato tutto! Tesoro, calmati! Lali Lua, aiuto! Va bene, cominciamo! Prendi le misure! Hai scelto il tessuto? Sì! Questo è il più costoso! Applica i modelli! Segna i bordi! Cucci! Silhouette perfetta! Raccogli! Un soffice velo! Che bellezza! Pollice in su se ti piace il look della sposa! Il mio vestito è il migliore! Tesoro, sono pronta! Oh, mi sento a disagio! Cominciamo! Accettate di diventare marito e moglie? Sì! Anch'io? Sì! Io? Ok, anch'io! Sì, sì! Mille volte sì! Lo prendo, lo prendo! Ma tu sei già sposata! La celebrazione è andata alla grande! Scegli un colore! Ci serve solo la custodia! Ridipingi di rosa! Una striscia di gomma a piuma! Chi è quello sullo schermo? Cuffie senza fili! Attaccala! La macchina per le ecografie è pronta! Che film straziante! Ehi, perché piangi? È una commedia! Ho pianto dalle risate! Oh, non va bene! Tesoro, come posso tirarti su di morale? Dov'è il mio gattino? Il gatto è lì! Dolce piccolo! Oh no! Fluffy non mi ama più! Tesoro, non piangere! Per te! Che belli! Ma passeranno domani! Cosa fare? Zucchina, andiamo in ospedale! Qual è il problema? Piange sempre! Interessante! Accomodati! Cosa hai intenzione di fare? Ti controllo la pancia! È un bambino! Sto per diventare mamma! Ecco una foto del bambino! È così carino! Stai per avere un bambino! Anche noi! Tutte le ragazze sono delle future mamme! Prendi una pallina trasparente! Una spugna magica! Un po' di rosso! Viola! E bianco! Un anello di nastro! Il palloncino per la rivelazione di genere è pronto! Scopriamo il sesso del bambino! Spero che sia un maschio! Voglio una femmina! Mi chiedo chi avremo! Spero che il nostro bambino assomigli a te! Che palloncino! Quando sarà la mia festa di rivelazione di genere? Oh, presto! Pronti? È una femmina! Avremo una figlia! Tesoro, anch'io voglio un palloncino! Ecco dei palloncini! Oh, quanti! Dammeli! Sta volando via! Prendetela! Lali Lui, il bambino arriverà presto! Posiziona un modello! Traccia i bordi! Taglia lungo le linee! Prepara i pezzi! Applica la colla! Lali Cadabra! Quasi fatto! Decora con un cuore! Raccogli gli oggetti! Ecco qua, invidia! Grazie, devo andare! Sembra che il bambino arriverà presto! È iniziato! Dove corro? Ficchiamo! Tesoro, niente panico! È ora di andare in ospedale! Dobbiamo prepararci! Tutto rigorosamente secondo la lista! Pannolini biberon omogenizzati! Quante cose! Dov'è la roba? Non c'è niente! Non preoccuparti, ho già impacchettato tutto! Non dimenticare il cappello, così non ti scotti! Presto, andiamo! Invidia e paura finalmente arrivano in ospedale! Futuro papà aspetta fuori, per favore! Oh, che paura! Andrà tutto bene, vero? Vai dietro il divisore! Trasforma in bastoncini! Prendine uno! Taglialo a pezzi! Assembla! Posiziona su una base! Copri con la pittura a gento! Prendi una cannuccia di plastica! Attacca il maniglione! Non dimenticare le ruote! Fai il pieno d'acquisti! Via allo shopping! Evviva quante prelibatezze! Oh, la mia pancia! È iniziato! Chiamo un'ambulanza! Pronto, mandate subito qualcuno! Mi dispiace, tutte le ambulanze sono occupate! Cosa? Nessuna ambulanza? Come arriveremo all'ospedale? Ah, che male! Fuori tutta quella roba! Siediti qui! C'è un ingorgo! Fateci passare! Ci serve un medico! Cos'è successo? Il bambino sta arrivando! Andiamo in sala parto! Ce l'abbiamo fatta! Che carina! E un'altra! Due gemelle! Due! Non siamo pronti! Anche Invidia ha dato la luce a una figlia! Papà, entra! Oh, è così piccola! Cosa sono questi suoni? Che papà nervoso! Ed ecco la bambina di tristezza! Tesoro, come stai? Che carina! Sono papà adesso! Prendi un contenitore! Più colori! Prendi dell'argilla leggera! Fai una palla! Chi rallegrerà il clown? Oh, la bambina sta piangendo di nuovo! Sono così triste! Tesoro, cosa c'è che non va? Come posso renderti felice? Lo so! Pronto, gioia? Mia moglie sta di nuovo piangendo! Le giovani mamme non dovrebbero essere tristi! Ho un'idea! Questo la tirerà su di morale! Arriverai presto! Sono già qui! Chi è triste qui? Ho un cappello magico! È una buona idea! Cosa abbiamo qui? È un palloncino! I palloncini si trasformano in... Un fiore! Altra magia! Questa è per la bambina! Ecco qua, tesoro! Sei felice adesso? Sì, tesoro! Gioia sa sempre rallegrare tutti! Le mamme sono andate a fare una passeggiata con le loro bambine! Guardate i miei passeggini! Ed ecco il mio! Super colorato! Ecco il mio! Sei sicura che sia nuovo? Basta, me ne vado! Tesoro, perché sei già tornata? Non voglio passeggiare con loro! Ti hanno fatto arrabbiare! Ho il passeggino peggiore! Ne voglio uno nuovo! Presto al negozio! Va bene come vuoi! Rimuovi la colla! Copri con l'oro! Gomma piuma glitterata! Mettila dentro! Avvolgi con un nastro! Decora con i volani! Attacca il telaio! Un passeggino lussuoso per i genitori più esigenti! Scegliamo! Tesoro, abbiamo abbastanza soldi! Non mi interessa! Aspetta qui! Quale scegliere? Uh, voglio questo! Saranno tutti invidiosi! Per favore, compramelo! Ok! Quanto? Il passeggino è piuttosto caro! Oh no! Non ho quella somma! Tesoro, perché ci vuole così tanto? Spero che siano abbastanza! Paura ha dovuto rinunciare a tutti i suoi vestiti! Ciao ragazze! È un passeggino nuovo! Che bello! Me l'ha comprato mio marito! Finalmente la mamma è felice! Prendi dell'argilla leggera! Prendine un pezzo! Forma una palla! Aggiungi le orecchie! Modella il viso! Acrilico nero! Dipingi il naso! I baffi! Attacca il corpo! Il gatto vuole entrare! Oh, che carino! Vivrai con noi! Guarda questo piccolino! Da dove viene? Questo è il nostro nuovo animale! Ai bambini piace il gatto! No, sono allergico! Fluffy ha deciso di affilare i suoi artigli! Mi ha aggraffiato! Ti prendo adesso! Tutta la casa è sotto sopra! Aspetta finché non ti prendo! Tesoro, non arrabbiarti! Guarda come sono carini! In vidi è andata a trovarli! Che gatto! Ti piace? Prendilo allora! Come si chiama il tuo animale domestico? Scrivilo nei commenti! Ciao ciao! Prendi una stampante! Stampa un passaporto! Ritaglia la copertina! Incolla tutti i dettagli e le foto! Gioia! Invidia! E tristezza! Apri il portatile! Effettua l'ordine! Ecco i biglietti! Grazie! È ora di partire! I papà si sono riuniti! Sorprendiamo le nostre mogli! Qualche idea? Forse una vacanza? Bisogna acquistare i biglietti in segreto! Dov'è il suo passaporto? Eccolo! Oh no! Si è bagnato! Asciughiamolo velocemente! Dove l'ha nascosto? Qui no! Vuoto! Dov'è? Trovato! Pronto ho il passaporto! Fantastico! Ha tutto pronto! Documenti e biglietto! Li nasconderò nella scatola! Ciao tesoro! Cosa stai facendo? Oh no! L'ha visto! Wow! Cos'è? Doveva essere una sorpresa! Ho rovinato tutto! Le mamme stanno partendo per un viaggio! Divertitevi! Ci manterete! È ora di andare! Sprichiamoci! Ciao ciao! Posso avere la bambina? Sì!